Una Chiesa, ma anche un'umanità, che sa piangere per il dolore dei giorni. E non solo, è una Chiesa che è madre. Una società che sa piangere per il dolore dei suoi membri, dei suoi cittadini, che sa piangere per l'umanità, è una società che invece di uccidere, partorisce. Qual è lo scopo della Chiesa, se non quello di far nascere e rinascere l'uomo alla vita di Cristo? Qual è lo scopo di una società, se non quello di far continuamente nascere e rinascere l'umanità, i suoi cittadini, alla speranza? Qual è lo scopo della politica, se non quello di partorire continuamente ogni giorno, dinanzi alla morte, la vita, dinanzi alla disperazione, dei malati, dell'inefficienza dei servizi, della carenza di lavoro, piuttosto che del lavoro nero, della violenza, della delinquenza. Dinanzi a tutte queste situazioni di disperazione, una politica vera deve essere una politica che sa dare, sa far nascere frutti di speranza. E solo se un politico riesce a piangere con chi soffre, con gli ultimi, con chi vive nelle periferie, solo se un politico parte dalle periferie, saprà essere un politico trattino madre. Il dono delle lacrime per il dolore degli altri è un dono, direi, universale. Un dono che supera confini, razze, culture, religioni. Mai abituarci alle sofferenze degli altri. Io mi sono abituato alle sofferenze degli altri. Quando vedo un bambino piangere per malattia, perché ha fame, perché è costretto a vivere sotto le bombe, mi abituo, mi lascio intenerire il cuore, piango, perché vedete, lo stesso Papa Francesco dice che le lacrime sono un modo per poter vivere la misericordia e per poter vivere la carità. Ma non sono le lacrime di commozione così spettacolare o dell'emozionalità del momento, no. Sono le lacrime che ti scavano dentro e che poi producono impegno, producono lotta, producono denunce. Allora, qual è il criterio perché Cristo viva o perché Cristo vive in noi le lacrime? Qual è il criterio di un politico, di un economista, di un uomo di finanza, di uno scienziato, di un industriale, di un contadino? Qual è il segno che ci aiuta a far capire che quell'uomo o quella donna amano e vogliono trasformare il mondo in cui vivono? Le lacrime. A domani, Parli Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! A domani, Parli Pio TV.